La prima volta, ogni volta è la prima volta, la prima volta che doni, dona il sangue, la prima volta e per sempre. Un piccolo gruppo di tifosi e Mantovani, che era con il padre, ci sarebbe stato uno scambio, loro erano con il loro mezzo, chiaramente colpito, ma una cosa proprio di 5-10 secondi. Mantovani, giocatore della Serenitana. Oggi non è entrato in campo, esatto, e non ci sarebbero nemmeno condizionale d'obbligo danni al mezzo, quindi c'è stato un momento di tensione fulmineo, ma si sarebbe risolto senza grossi problemi. Ecco, si è spaventato qualcuno che era nei paraggi e lì è finito. E il mister Riverani comunque è scattato come nei vecchi tempi per controllare come stava la sua famiglia. Ma anche in quel caso non è successo niente. Ci risulta che è arrivato fino al cancello a prendere i suoi familiari, a controllare un attimo al volo, ma eccolo, è venuto dopo mezz'oretta, magari un po' in ritardo proprio per questa situazione che si è venuta a creare. Però tutto bene, insomma c'è stato solo questo piccolo diverbio, chiamamolo così, e niente, questo è. Ringraziamo quindi Simone Frangioli di Umbreon per questa delucidazione su questi fatti. Grazie a voi. Grazie a voi.